Ferrara ha una sua utilità specifica per quello che riguarda le fiere di Supernicchia è un pochino la nostra bomboniera se vogliamo dove andiamo a mettere quelle manifestazioni che hanno bisogno di stare bene in pochi metri quadrati, estremamente verticali, estremamente specifiche legate al territorio, il restauro ovviamente è un po' la loro punta di diamante e noi siamo molto orgogliosi di ospitare la conferenza stampa qui a Bologna in questo magnifico oratorio restaurato perché poi il restauro da qui è partito e quindi è giusto in qualche modo rifondarlo e riportarlo sul territorio perché con i tempi che corrono indubbiamente i beni culturali hanno una importanza vitale per lo sviluppo anche di un territorio come Bologna che invece magari al turismo e al turismo legato ai beni culturali è sempre guardato un po' con un occhio distratto. È venuta qualche idea per fare anche delle fiere a Bologna che riguardino la cultura in generale? Beh, devo dire che parte adesso la fiera del libro per ragazzi che è l'evento culturale principe della fiera di Bologna insieme ad Arte Fiera abbiamo visto che non c'è stata nessunissima riduzione né di spazi né di espositori quindi ci aspettiamo una grande fiera del libro per ragazzi che quest'anno permerà anche tutta la città grazie al fatto che ospitiamo la Corea che è il paese ospite del libro per ragazzi che porterà la cultura coreana sulle strade, nelle piazze e nei negozi di tutta Bologna.